Il ciclo di presentazione in Umbria del romanzo storico Nel segno dei padri, la storia di Guglielmina e Peter, il libro firmato da Giacomo Marinelli Andreoli per Marsiglio Editore. Ieri è stata la volta di Perugia con l'incontro molto partecipato alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ad introdurre i lavori e l'intervento del Presidente Onorario dell'Istituto Cavalier Carlo Colaiacovo, mentre i relatori sulla storia oggetto del libro, la straordinaria amicizia epistolare nata a 60 anni dall'eccidio dei 40 martiri di Gubbio, sono stati chiamati il magistrato Giuseppe Severini, presidente di sezione del Consiglio di Stato, e il professor Paolo Belardi, direttore dell'Accademia Belle Arti di Perugia e ordinario dell'Ateno Perugino, entrambi, come anche il Presidente, di origini ogubine e legati indirettamente proprio alla vicenda dell'eccidio di Gubbio del 22 giugno 1944. Colaiacovo ha rivelato che suo padre Giuseppe era stato catturato tra i circa 100 ostaggi fermati durante il rastrellamento, seguito all'uccisione in un bar del centro dell'ufficiale medico Kurt Staudacker, poi fu tra i fortunati ad essere rilasciato. Belardi ha ricordato di essere nipote di una delle vittime Innocenzo Migliarini, tra i 40 fucilati la mattina del 22 giugno. Severini ha narrato del doppio filo che lo lega a questa vicenda, essendo nipote del podestà di Gubbio Lamberto Marchetti, che guidò la città fino all'autunno 1943, ma anche essendo figlio di Luigi, uno dei componenti del Comitato di Liberazione Nazionale di Perugia. Un vissuto personale che ha anche la testimonianza dei due protagonisti del libro, Guglielmina Roncigli, figlia di una delle vittime della fucilazione del 22 giugno 1944, e Peter Staudacker, figlio dell'ufficiale medico tedesco, ucciso al Barnafissi due giorni prima, da cui scaturì la tremenda rappresaglia. Una storia toccante e a tratti commovente, ha commentato Belardi, che appassiona chi l'ha sentita raccontare in famiglia, come noi, ma anche chi non l'ha mai conosciuta. Da ricordi dei miei nonni, ma anche di tanti ogubini che conosco, posso dire che di quella generazione chiunque sapesse dove era e cosa stava facendo quel pomeriggio del 20 giugno, perché quell'episodio segnò indelebilmente la vita di tantissime persone. Il merito dell'autore è averla saputa raccontare con delicatezza e profondità, e con la capacità di raggiungere l'animo di chi, penso alle nuove generazioni, può avvicinarsi alla storia attraverso queste vicende apparentemente piccole e periferiche, ma in realtà straordinarie. Accurate e approfondita l'analisi storiografica che ha proposto Giuseppe Severini, nel ricordare anche un suo lungo articolo del 2005, in cui ricordava alcune vicende successive alla liberazione che avrebbero visto la condanna degli esecutori dell'attentato al Barnafissi da parte del movimento partigiano, in realtà mai eseguita. Sulla storia di Guglielmine e Peter, Severini non ha dubbi, una pagina straordinaria di vita vissuta che completa, attraverso la testimonianza del privato, quella ricomposizione difficile da attuare nel pubblico. La ricomposizione è stata possibile grazie alla forza espressa dai due protagonisti ed è esemplare soprattutto per le nuove generazioni. Ricomporre significa superare gli steccati e guardare al futuro, senza ideologismi e senza barriere pregiudiziali. Mi auguro che questo libro sia letto in tutto il nostro paese e anche in Germania. Sono certo che migliaia di persone si possano identificare nella storia dei due protagonisti e che tanti giovani possano trovare ispirazione da questa vicenda. Presenta a portare un breve saluto finale anche la Presidente del Consiglio regionale, Donatella Porsi. Si tratta di una storia di riconciliazione a distanza di 60 anni dal ciglio dei 40 martiri, che è la strage più grave avvenuta in Umbria nel periodo dell'occupazione nazista. I protagonisti sono due persone che in quel 1944 avevano un anno, anche se vivevano a centinaia di chilometri di distanza. Lei, Guilmina Ronciglia, è la figlia di uno dei 40 fucilati e gubbini rastrellati in casa e messi al muro dai nazisti. Peter Staudacher è il figlio del medico militare tedesco, la cui morte provocò questa rappresaglia. Ucciso in un bar di gubbio due giorni prima, il 20 giugno del 1944, proprio nel giorno nel quale Perugia veniva liberata dai alleati. È una storia di riconciliazione nata per caso, perché in realtà Staudacher venne a gubbio dopo la caduta del muro di Berlino, perché lui visse in Germania dell'Est e non sapeva nulla dei 40 martiri. Le scoprì venendo a gubbio, lasciò una scritta sul libro delle presenze, quella scritta fu letta i giorni dopo da Guilmina, che era presidente dell'associazione. Lo ricercò, lo ritrovò, iniziò un'amicizia epistolare di otto anni. Otto anni perché poi purtroppo Guilmina è venuta a mancare per un male improvviso e ha lasciato tutto questo carteggio, un'amicizia bellissima, connotata da tratti davvero particolari, profondi, di due persone che hanno vissuto la stessa vita, anche se su due sponde opposte. Ha lasciato questo carteggio al sottoscritto perché giornalisticamente mi ero occupato di questa storia alcune volte e qualche volta avevo consigliato alla signora di non limitarsi a dedicare un servizio televisivo, ma lei molto schiva, aveva sempre preferito tenere e custodire questa storia per sé. Poi a pochi giorni, purtroppo dalla scomparsa, ha deciso di affidarmi tutto il carteggio esprimendo il desiderio che ne restasse in un cassetto e dopo alcuni anni sono andato in Germania, ho conosciuto Staudacker, ho ricostruito questa bellissima storia attraverso questo romanzo. Immagino questo sia anche il motivo per cui ha deciso di realizzare questa sua prima opera, se non sbaglio. Sì, io in effetti alla fine entro anche in scena in quest'opera, anche se in terza persona, perché possiamo dire che più che sceglierla sono stato scelto da questa storia, però mi sono immedesimato in queste due persone che hanno saputo scavalcare un muro, il muro di Berlino nel caso di Staudacker, ma il muro dei silenzi che ha circondato anche questa storia, soprattutto a Gubbio, da parte di Guglielmina Roncigli, che ci dicono che le persone possono essere anche vittime del destino, possono essere travolte dagli eventi, entrambi sono rimasti orfani a un anno, però possono decidere come reagire a quel destino, entrambi hanno scelto lui di lasciare una scritta il giorno in cui è venuto a Gubbio e lei di seguire quella scritta, avrebbero potuto non farlo, invece lo hanno fatto. C'è anche un messaggio dietro a questo libro, dopo 70 anni si può parlare di riconciliazione. Sì, in effetti la frase emblematica è sulla quarta di copertina del libro, la scrive Staudacker in una lettera a pochi giorni dalla morte di Guglielmina e dice siamo come due bambini persi diventati vecchi che si sono ritrovati dopo una vita passata separatamente pur non avendo nulla per riconciliarsi, pur non avendo affatto nulla che meriti una riconciliazione. In fondo loro erano figli di coloro che erano stati uccisi dagli eventi, ma hanno dato un segno, hanno lasciato un segno, il titolo è proprio questo, nel segno dei padri, nel segno del ricordo di quei padri che non ci sono stati, loro lasciano questa eredità morale ai figli e anche ai tanti giovani che spero possano leggere questa storia.